Il presidente della provincia di Padova Fabio Bui ha visitato la sezione carceraria dell'istituto Einaudi Gramsci che si trova alla casa circondariale Due Palazzi di Padova. Io penso alla provincia dei bisogni, alla provincia dove ci sono le persone e il carcere di Padova è una realtà della nostra provincia e ho deciso per la seconda volta, la seconda volta in verità che vengo, di andare a visitare la nostra scuola Einaudi Gramsci che qui ha 59 studenti e ho detto la provincia ci deve essere, il presidente deve venire a visitare anche queste realtà. E allora oggi assieme alla preside, assieme al produttore faremo una visita agli studenti, ai professori e al carcere di Padova.